Ho ordinato HydroFace perché non mi sentivo più bella con quelle linee sulla faccia, i cerchi neri e gli occhi. Quindi mi son detta, perché no? Cosa ho da perdere? Così l'ho ordinato e incredibile come mi ha cambiato la pelle. Le rughe sono sparite, i cerchi neri spariti e gli amici mi chiedono qual è il segreto per apparire più giovane. Ad alcuni lo dico, ad altri no. Dopo aver usato HydroFace non solo sembro più giovane, ma ho iniziato ad attrarre ragazzi giovani e questo ha aumentato la mia autostima. Sbrigati perché le scorte sono limitate. Ordina su www.hydroface.com